Buongiorno, buongiorno e bentornati su TCS, Telecosta Smeralda, il magazine, ce ne siamo accorti, è entrato l'autunno? No, è ancora estate, temperature ce ne siamo accorti anche queste, la media è 23-24, arriviamo anche ai 30, la notizia l'assenza di vento e quindi la Sardegna continua a essere invasa dai turisti e meno male aggiungiamo. Intanto però un po' Federalberghi fa una fotografia, scatta una fotografia, traccia un bilancio dell'estate, adesso siamo in autunno, non aveva calcolato la classica ottobrata, dice che appunto le presenze, soprattutto d'estate, quindi stiamo parlando della stagione appena trascorsa, le presenze in calo, ricavi in aumento, la colpa sempre dell'inflazione, ormai qualsiasi cosa diamo la colpa all'inflazione, Federalberghi insomma chiosa dicendo che è una stagione positiva ma nelle località di mare le presenze non sono state al massimo. Tutto questo che ho raccontato è un'altra cosa in questo servizio. Estate 2023 è tempo di bilanci, l'autunno incombe ma il clima dell'isola favorisce ancora arrivi e presenze e sono gli stranieri in particolare a godersi l'ultimo sole della stagione. A conti fatti i mesi di giugno, luglio e agosto segnano dati più che positivi soprattutto se raffrontati al 2019, considerato dagli esperti di settore l'anno spartiacque pre-pandemia e di vero e proprio boom. e l'analisi di Federalberghi Sardegna fa il punto su una stagione 2023 per alcuni aspetti ridimensionate in corsa. Una stagione che sta concludendo nel migliore dei modi, possiamo assolutamente parlare di una stagione positiva, abbiamo ovviamente un dato, non è da tutto esaurito. Luglio e agosto hanno avuto il segno meno in particolare rispetto all'anno scorso, tutti gli altri mesi il segno più. Dovuto a che cosa? Gli stranieri sono tornati prepotentemente nell'isola, ovviamente gli italiani un po' per l'inflazione, un po' per la possibilità di andare in tutte le destinazioni a livello internazionale hanno fatto altre scelte. Quindi il saldo sarà leggermente inferiore a quello del 2022, ma lascia buone prospettive per il prossimo anno, perché il ritorno degli stranieri diventa strutturale e quindi ci permetterà di programmare fin dall'aprile del prossimo anno una nuova riapertura e una stagione che deve riprendere a ragionare come si faceva prima del Covid. Vale a dire guadagnando una settimana in più all'inizio della stagione e una settimana in più alla fine della stagione per arrivare velocemente a quei sei mesi dove tutto deve essere aperto nella nostra regione. A dare fiato l'infa all'industria turistica ci hanno pensato gli stranieri che hanno scelto l'isola come destinazione del cuore per le loro vacanze. Arrivati in massa a maggio e giugno si vedono anche nei mesi cosiddetti di spalla, certificati da arrivi in porti e aeroporti pure a settembre ed ottobre. Di contro il calo delle presenze domestiche, soprattutto ad agosto, tanto che nelle strutture recettive sarde pesa l'invenduto. Colpa dell'inflazione è della stagione di aumenti vertiginosi dei prezzi dei beni essenziali che ha colpito i risparmi degli italiani. Oltre l'inflazione, quali sono state le variabili impazzite? I competitors? Ma è palese che oggi sul mercato sempre più piccolo a livello mediterraneo ma anche globale troviamo realtà come Turchia e Croazia che sono molto aggressive e quindi con la riapertura dei mercati internazionali hanno fatto offerte e si sono posizionate in maniera diretta su tutti i nostri paesi obiettivo come Germania, come Svizzera, come Francia. Allo stesso tempo l'inflazione è un problema europeo, non è solo italiano, ma nelle casse degli italiani obiettivamente ha pesato in maniera un pochettino più determinante e soprattutto all'ultimo punto dobbiamo dire che la riapertura dei mercati ha fatto sì anche che si sviluppasse quella voglia di cambiare. Negli ultimi tre anni si poteva andare solo in Italia e questo è uno dei motivi principali per cui abbiamo il calo delle presenze degli italiani in questa stagione. Ritorno al tempo perché stavo immaginando un fine settimana con Autunno in Barbagia, con tante comunità, tanti luoghi anche di piccoli abitanti come l'Ollove che saranno in base non solo dai turisti ma dai sardi che apprezzano finalmente questa nostra cultura, le tradizioni, i territori. Intanto, strettamente connesso a quello che vi sto raccontando, c'è Noi camminiamo in Sardegna, seconda edizione sfida vinta dall'assessorato regionale del turismo che ha scommesso e appunto vinto sui cammini religiosi, sul turismo lento, a questo proposito. Adesso parliamo del cammino di San Giacomo che in sardo ha un altro nome. Vediamo. Il cammino di Santo Iaco attraversa tutta la Sardegna, 1600 chilometri sui sentieri tracciati dall'antico pellegrinaggio legato a San Giacomo. Un'esperienza unica per esplorare l'isola e conoscere nel patrimonio storico le bellezze naturali e le tradizioni che in 60 tappe tocca tutti i luoghi di culto dedicati al santo, sull'esempio dei grandi cammini spagnoli. E proprio ripercorrendo i sentieri segnati dalla spiritualità dei sardi, si muovono i pellegrini che hanno aderito alla seconda edizione dell'evento Noi camminiamo in Sardegna, promosso dall'assessorato regionale del turismo. Noragugume è tra i comuni che ha San Giacomo come patrono. Ricordiamo che all'inizio, nel 2007, quando è stato ideato il cammino di San Giacomo, In quel periodo storico in cui è nato il cammino, questo percorso univa solo ed esclusivamente i comuni che avevano San Giacomo come patrono. Noragugume è uno di quei comuni che ha San Giacomo come patrono. È iniziato da questa idea di pellegrinaggio, quindi un'idea di fede, e poi si è trasformato anche con un'idea di promozione turistica e quindi promozione dei territori interni alla Sardegna. Anche se il cammino unisce le quattro coste, diciamo, nord, sud, est e ovest, perché si muove da Cagliari per arrivare a Porto Torres, e ricordiamoci che c'è anche l'altro pezzo di cammino che unisce Orosei e arriva Sina per Dajus. In questo caso è iniziato con un discorso di fede, perché San Giacomo nel suo percorso dalla Terra Santa per arrivare in Spagna, attraverso la Sardegna e durante il suo percorso evangelizzò anche in Terra Sarda. In particolare i camminatori hanno percorso sterrati e vie di campagna, in mezzo alla natura e ai boschi, attraversando i bellissimi territori di Noragugume, Bolotana e Bonorva, fino ai Tirei, Dupassandabad e Salighe, e se il borgo di Rebecco tra coline olivettate, boschi incantati, e Panorami mozzafiato alla scoperta delle importanti testimonianze di un passato ormai lontano, di cui è ricco tutto il territorio del Marghine. Questa parte di noi camminiamo in Sardegna tocca anche un luogo molto bello, che è questo Villa Persi qua a Bolotana, è un modo quindi anche per trasformare il pellegrino in turista e il turista in pellegrino. Assolutamente sì, nasce come percorso di fede, ma poi evolve anche in un processo di promozione delle zone interne soprattutto. Gli nove comuni che erano uniti dal percorso di fede hanno poi ragionato, abbiamo dedotto che le tappe erano molto distanti fra di loro, era necessario includere nel percorso anche quei comuni che lungo le tappe fondamentali si trovavano e quindi abbiamo creato delle tappe intermedie. Badesaliges era doveroso includerlo perché come porta del Marghine era doveroso includerlo perché la bellezza della villa, ma soprattutto l'ambiente che circonda la villa è unico nel suo genere. Il centro Sardegna poi è diverso dalla costa, quindi era giusto un po' esaltare le caratteristiche e le bellezze delle zone interne della Sardegna. Riprendo un concetto della sindaca Rita Zaru, un percorso di fede, già la fede è una missione, si può appiccicare perfettamente al lancio di questo servizio, ovvero della protezione civile sempre in primo piano, mattina, giorno, notte, inverno, estate, autunno, per aiutare gli altri. Beh, la protezione civile è un mini mondo, un mondo, anzi, fatto di uomini, donne, persone, esseri umani che dalla settimana prossima si mettono ancora più in mostra, vanno nelle scuole. C'è una bella novità appunto per le scuole, la sensibilità appunto raccontata attraverso un fumetto. Forse ho detto troppo, vediamo il servizio. Una settimana intera dedicata alla protezione civile, già gli angeli e la competenza al servizio degli altri. Sette giorni a livello nazionale con il casco locale, due novità, un manifesto, anzi il manifesto, titolo Io non rischio, con sette punti, sette temi e sette buone pratiche da tenere in testa e comunicarle. Scienza, volontariato, istituzioni, consapevolezze, azioni, messaggi chiari e riconoscibili, anche perché il programma Io non rischio promosso dal Dipartimento nazionale che è particolarmente utile per avvicinare la protezione civile alla cittadinanza e quindi far conoscere quelle che sono le buone pratiche e anche l'attività che la cittadinanza deve porre in essere nel momento dell'emergenza. Nata nel 2019 con direttiva del Presidente del Consiglio di Ministri la settimana nazionale della protezione civile, davvero un momento importante, il mettersi a servizio degli altri e la filosofia che anima ogni santo giorno dell'anno uomini e donne, donne e uomini di questa parte bella di società, mette in contatto e connette l'Italia e la Sardegna intera. A chi? Questa iniziatura avvicina ancora di più ai cittadini. Assolutamente sì, abbiamo discusso del tema della protezione civile anche nel tavolo che c'è stato al Festival delle Regioni e abbiamo avuto modo anche di discutere sul futuro del ruolo della protezione civile in Italia che oggi è particolarmente conosciuta e anche, come dire, invidiata da altri stati nella fase di emergenza, ma dobbiamo capire che la protezione civile potrà occuparsi anche di coordinare interventi in fase preventiva. E poi l'educazione, le scuole, da sud a nord dell'isola, tante le iniziative di comunicazione, open day con i ragazzi, tavoli a tema, come quello dedicato alla riduzione del rischio dei disastri naturali. Oppure un'altra iniziativa nazionale, l'attimo decisivo, con un fumetto, bella idea questa, finalizzato ad avvicinare gli alunni delle scuole secondarie di primo grado alle buone pratiche. Insomma, che settimana della protezione civile sia e soprattutto sia davvero assimilato quel claim, quello slogan io non rischio. Perché le pratiche buone, eppure le azioni di generosità possono salvare non solo la vita ma la salute del pianeta e poi tra le tante parole che usciranno in queste giornate una vale più di tante altre. Preconizzare gli eventi. È fondamentale la prevenzione in termini di protezione civile e soprattutto in tema di dissesto del geologico perché tutta una serie di opere sono utili per poter mitigare il rischio. Non dobbiamo sempre aspettare il fenomeno eccezionale per poter dire che avremmo dovuto in qualche modo intervenire. Abbiamo infatti conoscenza di alcune situazioni di particolare rischio e sarebbe bene che quelle situazioni vengano affrontate in via prioritaria senza dover aspettare che accada qualcosa per poter intervenire anche perché i costi di gestione degli interventi in fase dell'emergenza sono sempre più alti. Sensibilizzare dunque, comunicare e conoscere. Conoscere le facce di chi mette a rischio la propria vita per aiutare gli altri e qui la retorica, fidatevi, non c'entra nulla. Quando la cultura è uno spettacolo attira il turista. Vediamo. Si viaggia con le emozioni, stato affettivo che dà anche il nome al nuovo cartellone della compagna teatrale L'Effimero Meraviglioso presentato nei giorni scorsi presso il Teatro Massimo del capologo Sardo. L'espressione artistica avrà luogo come sempre nel meraviglioso teatro civico di Sinnai con la direzione artistica firmata da Maria Assunta Calvesi. 15 titoli in cartellone tra ottobre e marzo con artisti e compagni di spicco della scena isolana e nazionale. Tra rivetture di classici e contemporanee accanto a spettacoli di teatro, danza e concerti. L'Effimero Meraviglioso la nuova stagione è targata 2023-2024. Partiamo dal titolo Emozioni. Emozioni perché è ovvio che il teatro deve suscitare emozioni, altrimenti per me è un teatro inutile. Quindi emozioni che vanno dal divertimento alla riflessione, alla condivisione, varie sfaccettature di emozioni. Ma questo è, diciamo, lo scopo del teatro. Infatti ogni spettacolo, secondo me, suscita un'emozione diversa. Infatti sono 14 titoli, più uno fuori stagione, che è lo spettacolo con Vladimir Luxuria, Princesa. E ogni spettacolo, secondo me, ha una particolarità emozionante. Alcuni sono divertenti, leggeri, altri invece si occupano e insomma mettono in rilievo delle problematiche molto attuali. Partiamo da Princesa. Ecco, l'arte è un discorso molto forte dell'identità di genere che interpretato poi da Luxuria, secondo me, è un valore aggiunto che in questo spettacolo è veramente straordinario. Il Festival di Borgio Verezzi ha registrato 12 minuti di applausi e è una standing ovation, quindi insomma, credo che valga proprio la pena di venire a vedere questo spettacolo che poi rimanda alla canzone di Fabrizio Di Andrè, proprio princesa che era aspirata a questo ragazzo brasiliano che poi è diventato donna ma ha avuto una vita molto drammatica. E poi c'è una piccola particolarità che è conosciuto in carcere, nel gastulano sardo. Questa storia che l'ha aiutata e l'ha sostenuta molto. Iniziamo con Arianna che è una coproduzione con Asmed dove si parte proprio dal mito di Arianna ma con una rilettura contemporanea. Ecco, ci sono tre spettacoli che si rifanno ai miti. Anche Voi che il Ternestra Voi che è una coproduzione sempre con Asmed dove affrontiamo il personaggio di Cri Ternestra però calato molto fortemente nell'attualità riletto dalla Yusena e poi abbiamo l'Ido Odissea della compagnia Berardica Solare che partendo dal mito dell'Odissea però anche loro tanto che lo ambientano in uno stabilimento balneare insomma rileggono l'attualità attraverso questi personaggi. Ecco, l'Efimero Meraviglioso come si colloca con il panorama Teatrale Sardo? Ci collochiamo come una compagnia molto vecchia cioè si stiamo dal 90 e dal 2004 gestiamo il Teatro Civico di Sinai che è un luogo aperto molto attivo aperto ogni giorno che non solo organizza la stagione teatrale ma anche la stagione per le famiglie la stagione per le scuole c'è una scuola di teatro quindi si colloca come una realtà molto viva credo vivaggia storica professionale e che in questo momento è conosciuta anche molto nel panorama nazionale. Il progetto culturale ha il patrocino di sostegno del comune di Sinai e della regione Sardegna. Bene, io termino qua avuto appuntamenti alle prossime edizioni con il nostro magazine grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.